ehheh battaglia e giocavo uhuh goto ah ragazzo fa volo a tutti penso che sono primi dai e io no raga come sempre stanno a perdere perchè dai raga 24 punti ho portato raga raga fammi serio dai dai su 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 bravo bam 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 avrò terzi brutto vai con calma ragazzi, ah ragazzi pensiamo ehm, ah ragazzi andiamo a saccarmi Bomba gana, bomba no regalo no regalo tamo g di un g si um no perchè allora poi una cosa dobbiamo portarlo con il cavo direttamente